Udine è una città che è dotata di un numero veramente importante di strutture sportive, alcune delle quali sono dedicate al calcio, che è uno degli sport come sappiamo più popolari e che porta il maggior numero forse di tesserati soprattutto nelle categorie giovanile. Il comune di Udine interverrà con un sostanzioso investimento di oltre 3 milioni e mezzo di euro per la riqualificazione di numerosi impianti calcistici, non solo focalizzandosi sui campi ma su tutto quello che c'è attorno, obiettivo che continua a perseguire l'assessora Chiara Dazzanna ad essere per ora interessati dalle iniziative saranno il campo di Via Valente, il Bepirigo di Via Basiliano a Santo Svaldo, l'impianto Tomasedig di Via Torino a Paderno, il campo Clocchiatti in Via delle Fornaci, il Comuzzi di Cussignacco e infine l'impianto situato all'Aipacco. Abbiamo deciso di investire importanti risorse per la riqualificazione di molte strutture al calcio dedicate sul territorio del comune di Udine con l'intento di riuscire a uniformare le opportunità che queste strutture possono dare su tutto il territorio. I lavori si dovrebbero concludere entro un anno, obiettivo dell'amministrazione comunale proseguire nei prossimi di anni con questo tipo di interventi di ammodernamento su tutti gli impianti al momento non ancora interessati. Pertanto è per questo che abbiamo investito su impianti di illuminazione, riqualificazione energetica, rifacimento di percorsi con l'abattimento delle barriere architettoniche, reti, recinzioni delle strutture e sale polifunzionale. Abbiamo capito anche quanto queste strutture rappresentino un presidio e una possibilità non solo per le associazioni calcistiche e prettamente sportive, ma anche per le altre realtà del territorio che hanno la necessità di spazi di aggregazione.